Ci sei? Peccato, dovevi rimanere lì, sei andato avanti. Greta! Greta! Via! Bravo! Adesso tutto! Che troverete tra breve ci cominciamo a togliere qualcosa. Mi resta? Il lago si assicca? Paolo, secondo tonio tra il piede. Chi va? Chi va? Greta! Sei in vantaggio! Greta! Dove sei disgraziato madonna? Più avanti! Vedi il culo come lo butti fuori? Oh, lì! Giovanni! È venuto a prendere il sole! Greta! Oh! Greta! Oh là! Greta! Vai davanti! Devi riparare davanti al cane! Oh! Oh! Gianni, cosa ti ho detto? Vieni oggi, fai un giro solo! Cosa ti ho detto? Guarda come la vuole! Guarda come la vuole! Guarda! 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 Lo dobbiamo darmi lì! Invece poi te ne vai dall'altra parte! Se tu invece aspetti la rotazione col cane vicino è normale che sei il cane! Greta! Questo faccio bellissimo! Greta! Via! Vai! Va! Va! Vi combina! Grazie a tutti. Grazie a tutti.